buonasera buonasera carissimi amici stasera ci troviamo in territorio di Bitondo i miei capelli a 3 centimetri sempre a destra vedete alla campagna del mio compagno Pasquale guardate ragazzi roba buono qui c'è l'altro compare ciao Vito eh la salzita che è la salzita di raccine ehi Sergio che è la salzita di raccine ma che è la salzita che non è bella la salzita di raccine vedete roba buona eh vai vai allora va la salzita di camparm da corso fornare 87 beh ragazzi allora già stiamo e fu un discorso ragazzi devo fare un discorso alla ministra Castelli 5 stelle che ha detto oggi alla polemica per i ristoratori che ha un reclamato tra i ristoratori e la ministra sa che ha detto la ministra silenzio buona tra i ristoranti cambiate lavoro che era perché già è di lavoro ha capito Castelli che vuoi mostrare tu ragazzi io mi vado a mangiare un po' di carne leggero ma Pasquale ma Pasquale ma Pasquale vuoi salutarli amici salute salute tuo figlio dai ciao Franco saluti tutti tutti che stiamo a Bolzen ciao ragazzi alla Svizzera il trucco che stiamo a Svizzera dammi la salzita di cavallo un po' per te dai non si senti dai salutiamo la Germania Cantori, Bolon, Milen, tutto questo ciao ragazzi da Bitondo è tutto siamo vicino anche via Cappellin vi aspetto domani al bar ciao ragazzi ciao a domani